Amici ma soprattutto amiche, l'avrete sicuramente detto, Mario Chalmers tagliato da Melfis Grizzly dopo l'infortunio. Stessa sorde che abitrata un paio di settimane prima al giocatore per il quale era stato scambiato da Miami, Beno Udry. Tagliati tutti e due, infortunati out for the season, le squadre hanno deciso di tagliarli con non poche critiche, non poche critiche perché cazzo raga dal punto di vista umano è una merda. Avete del fango della merda? Però l'NBA è la lega numero uno per quello che riguarda il business e in questo caso le ragioni sono puramente di business. Per risparmiare il cap cosa si fa? Si taglia i giocatori infortunati per poter prendere uno dei nuovi giocatori che nonostante vengano presi tramite decadali eccetera, comunque possono dare un contributo che ormai gli altri non possono più dare e soprattutto risparmiare il capo. Con questa meraviglia potrete licenziare metà del personale. E' una falla un po' della lega perché ti dicono tu puoi portarti a roster quel tot numero di giocatori per i playoff, due squadre che vanno per i playoff come Miami e Memphis sono obbligati a tagliarsi i giocatori. Certo Memphis Gasol non l'ha tagliato. E' vergognoso, è vergognoso. Io dico fanno casini, lockout per i contratti collettivi qua. I contratti collettivi proteggono sempre i soliti. E' aronica, chi ci pensa ad aronica? E' questa è una vergogna! E' una vergogna! Scamino! Scamino! Scamino!